Bene, ma non benissimo, sarebbe forse anche un po' presuntuoso, diciamo. Io lo lascio dire ai trentini. Noi abbiamo oggi spiegato cosa abbiamo fatto in questi cinque anni, partendo dall'inizio, da quando abbiamo fatto un percorso partecipativo che si chiamavano Stati Generali della Montagna, quello che abbiamo fatto rispetto a quelle istanze, ci sono cose che non abbiamo fatto, ma anche l'attenzione alle città, perché le cose citate sulla città di Trento e Rovereto sono cose che avevano una certa antichità nel doverle trattare. Noi crediamo di averle messe in moto e di aver implementato anche il tema dell'attenzione alle città. Poi in questi cinque anni oggettivamente sono accaduti fatti straordinari che tutti conoscono e quindi questi fatti straordinari hanno sicuramente contribuito nella gestione difficile di questo percorso. però rispetto ai programmi iniziali credo che quello che abbiamo fatto, che comunque abbiamo fatto, una parte di queste cose sia stato giusto dirlo e chiarirlo. Io credo che sulla città di Trento dopo questi cinque anni ci siano questioni che sono state affrontate, magari totalmente, magari parzialmente, e alcune che potremo ancora affrontare che abbiamo fatto. La scuola di medicina è dato di fatto, arriva nella città di Trento la scuola di medicina. Oggi noi possiamo parlare di un'azienda sanitaria universitaria, che prima di questo non si poteva parlare. La circonvallazione con tutte le sue difficoltà è un dato di fatto, le risorse sono arrivate in questa legislatura. L'area di San Vincenzo, tra qualche polemica, ma è un dato di fatto che è un'area rimessa a disposizione della comunità di Trento per quello che poi decideremo. Noi lì ci faremmo anche lo stadio, ma di questo va parlato con il Comune, ovviamente. Gli interventi a Spini e a Ravina sono circa 80 milioni di euro. Anche questa fu una delle prime richieste che mi fece il sindaco Andreatta, l'intervento di Spini, devo dire. E già all'epoca era un intervento in ritardo. E adesso siamo nella fase di appalto. Rivendichiamo anche il nuovo Festival dell'Economia. Perché il nuovo Festival dell'Economia, credo che si abbia portato qualcosa in più, poi alla città di Trento, poi abbiamo fatto solo due edizioni, vedremo le prossime, però credo che si sia visto un certo cambio di marcia. E anche sul NOT, tra le mille difficoltà che ci sono state e che abbiamo avuto anche noi, indubbiamente, abbiamo messo la parola a fine e siamo partiti con un altro progetto. E anche sul Roveretto, credo che ci siano delle cose interessanti. L'ipotesi di interramento della ferrovia che andremo a discutere con l'amministrazione comunale, ho già sentito il sindaco per questo, che RFI sta facendo, è un'ipotesi sulla quale poter lavorare. RFI riteniamo che a breve parlerà di progetto di fattibilità per la Roveretto Riva. Questo vuol dire che uno sale in treno a Monaco e scende a Riva. Questo è un progetto europeo, barra di grande impatto di sostenibilità. E poi tante altre cose. Sappiamo che dagli accordi di Milano, del patto di garanzia, c'erano degli arretrati che riguardavano gli arretrati sui giochi, che quello lo abbiamo chiuso nel 2021. E ci sono degli altri arretrati ancora in corso, con i quali stiamo trattando insieme a Bolzano con il MEF e riteniamo che si possono chiudere nelle prossime settimane. Non avendo di più i gettiti arretrati che c'erano in passato, indubbiamente il bilancio della provincia autonoma riesce a gestire le proprie competenze, sì, questo sì, ma con il contributo che diamo ogni anno alla finanza pubblica nazionale, si fa fatica a finanziare gli investimenti importanti che ci sarebbero da fare, che ci sono da fare sul nostro territorio. E quindi il tema delle risorse esterne è importante, ma anche perché se noi teniamo alimentati gli investimenti, è un po' questa legge di bilancio va in questa direzione, perché abbiamo dovuto sempre aggiornare le maggiori entrate, dovute sicuramente all'impatto turistico, ma dovuto anche agli investimenti che stanno venendo avanti. Questi alimenteranno il bilancio del futuro e sarà un bilancio che riuscirà ad alimentarsi con gli investimenti messi in campo e dobbiamo continuare a credere negli investimenti, anche con le risorse esterne che in questo momento particolare l'Europa e il Paese mettono a disposizione, quindi dobbiamo sfruttarli. Il Ministro Fitto ha convocato tutte le regioni, compresa la provincia autonoma di Trento, si è fatto spiegare quello che abbiamo fatto, quello che non abbiamo fatto, e ha voluto ulteriori progetti che noi siamo in grado di portare a termine entro il 2026, ma che non sono stati al momento finanziati. Ora attendiamo le decisioni del Ministro.